Colonnello! Agli ordini! Presto! Camerati! Voi che siete della polizia? Come va il fronte interno? Si vocifera? Si vocifera? E altro che altro che. Me lo immaginavo! Me lo immaginavo! Altro che popolo di santi e di poeti! Noi siamo un popolo di traditori, di vociferatori e affini! Ecco cosa siamo, caro lei! Ehi, scusate, caro voi, il lei è stato abolito, è stato abolito il lei. Signor Sti. Da quanto tempo? Eh, da un pezzo. Da un pezzo. Scusate, generale, io volevo soltanto un'informazione. Anche voi, anche voi, tutti vogliono sapere lì stessa cosa. Colonnello! Comandate! Guardi un po' se il nemico ci ascolta. Signor Sti. Ci ascolta? Signor no. Ah, beh, perché se ci ascoltava, io non parlavo mica, non sono mica un fesso, io sa. Allora? Ebbene, sì. Sì, che cosa? Le armi segrete, amico, ci sono te! Ed ora, visto che ci siamo tutti, possiamo incominciare. Benissimo. Silenzio! Prima il rapporto ufficiali. Camerati! Salute il duce! E noi! Colonnello! Comandate! Situazione armamenti? Ottima! Situazione viveri? Ottima! Situazione morale? Altissimo! Bene, vinceremo! Vinceremo? Sì! Vinceremo! Grazie.